Fra occasioni create e concesse credo che si sia in vantaggio noi, in casa di una squadra, e l'avete visto anche oggi, molto forte, attrezzata in maniera veramente importante. Non faccio che complimenti ai ragazzi avrebbero meritato di portare a casa un risultato positivo per quello che si è riuscito a fare sia qualitativamente che dal punto di vista anche della corsa, dell'atteggiamento, della personalità nel venire a giocare comunque la partita in casa dell'Alessandria. Concorda col fatto che probabilmente l'Arezzo nei primi 45 minuti ha visto stasera forse il miglior Arezzo? È stato positivo, ci hanno un po' sorpreso sicuramente il fatto di aver cambiato ed essersi messi 4-3-3 quando finora non l'avevano mai fatto e in questo i ragazzi sono stati particolarmente bravi a adattarsi alla situazione tattica nuova. Di pari valore al primo tempo con il Como no, perché con il Como comunque avevamo fatto due gol e poi fondamentalmente in questo giochino la devi buttare dentro perché quando giochi, quando crei, devi avere anche la capacità di buttarla dentro. Però la strada credo che sia quella giusta. Grazie a tutti.